Ciao a tutti, per la rubrica tipi di donne vediamo le rifattone, le rifattone cioè le donne che fanno pesante o comunque fanno ricorso diciamo alla chirurgia estetica per rifarsi le labbra che diventano dei canotti praticamente, gli zigomi che diventano delle robe messe qua, poi qua tutte sotto gli occhi si tirano in qualche modo, insomma un po' di botulino per cercare di eliminare le rughe e poi diciamo si rifanno seno, glutei insomma rifanno un po' di tutto insomma, chi più ne ha più ne metta, chi più ne ha più lo metta diciamo e quindi si rifanno tutte per quali motivi? Si rifanno tutte perché vogliono sembrare più giovani e dobbiamo tenere presente questo fatto che le rifattone sono delle donne quindi che hanno un turbamento un turbamento legato all'invecchiamento cioè temono di invecchiare, temono di essere giudicate vecchie temono di essere giudicate, hanno proprio paura di invecchiare, di perdere fascino, di perdere bellezza e quando come dire iniziano quindi a superare gli anta iniziano tutta questa procedura di rifacimento che però di fatto non porta da nessuna parte perché intanto più belle non diventano perché come dire acquisiscono questa espressione tipica delle donne che utilizzano appunto botulino, chirurgia estetica più belle non diventano, più sensuali neanche però ridicole, più ridicole sì quindi il suggerimento è se volete avere fascino tenetevi le rughe fate sì attività fisica, sport per mantenere naturalmente in forma il vostro corpo senza dover ricorrere a interventi di chirurgia che poi non portano da nessuna parte veramente rendono il corpo inespressivo un contro è il mantenimento magari attraverso, che ne so, le creme, le cose che poi non so che effetto possono avere se qualcuno vuole fare qualche intervento leggero proprio che non si possa percepire va bene ma qualora l'intervento diventa percepibile e nel 99% dei casi lo diventa è molto meglio evitare di farlo perché non dà nessun vantaggio dal punto di vista della seduttività e piuttosto affrontare il tema della paura di invecchiare che è sempre un tema utile per capire come mai si è sviluppata questa paura legata all'invecchiamento bene, per questo video è tutto seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco iscriviti al canale ciao